E' cambiato tutto, ci hanno messo proprio agli arresti domiciliari perché noi non possiamo più neanche andare a usciti di casa nostra. Abbiamo una strada tutta rotta che ce l'hanno destata per mettere giù la corrente, dopo due giorni dovevano venire e da marzo che siamo così. Anzi, siamo andati sotto acqua, abbiamo comato uno con una scavatrice che venga un po' a levarsi il terreno che avete visto ci sono ancora le montagne di terra e tutta la stradina che noi da 44 anni ce la siamo sempre asfaltata. All'indomani della disperata segnalazione ai nostri microfoni da parte di una coppia di anziani residenti insieme al figlio in via Orlanda a Campalto interviene il presidente della municipalità di Favaro. Ho ricevuto i signori Carer ed ho interessato immediatamente la Veritas. La Veritas è andata a verificare in loco e ha detto che sposterà i bidoni dell'immondizia più vicini alla casa giustamente. Dovrebbero essere spostate entro la fine del mese. Un passo dunque è stato fatto, ma se in questo caso la municipalità si è potuta attivare autonomamente ci sono degli interventi su cui ha le mani legate. L'impresa che sta facendo i lavori e la società che ha dato in appalto questi lavori, durante questi anni, i lavori sono iniziati nel 2016, ha sempre avuto un comportamento assolutamente irrispettoso nei confronti dei cittadini. I cittadini devono avere rispetto e questi sia l'ente appaltante che l'impresa appaltatrice non hanno avuto rispetto nei confronti dei cittadini. Giusto per dire un'altra, in via delle Feci ci sono tre montagne di terra, abbiamo scritto 4, 5, 6, 10 lettere, non so neanche più quanti lettere abbiamo scritto, abbiamo sempre chiesto che venissero rimosse e non sono mai state rimosse. Proprio come sta accadendo davanti a casa dei signori Carrerra. Noi abbiamo scritto, abbiamo scritto e riscritto e chiediamo che i comuni di terra vengono portati via, anche perché se rimangono lì poi bisogna trovare qualcuno che li porti via, se non li portano via allora. Se questo è il modo di operare, il modus operandi dell'impresa che esegue i lavori e dell'impresa che ha dato in appalto i lavori, Dio ce ne scampi perché dire che tutto va bene madama la Marchesa, proprio proprio no.